Benvenuti su DIVIRSITY 3! Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft! Ebbene sì, dopo anni di attesa, finalmente è tornato DIVIRSITY! Molti di voi l'avranno sicuramente già visto sul nostro canale, se non l'avete visto vi consigliamo di dare un'occhiata alle playlist in descrizione, anche se sono video un po' più vecchi, ma si tratta di mappe veramente fenomenali! Ancora complimenti a Qmagnet e tutte le persone che hanno partecipato alle prime due versioni, e complimenti a GIGARBOV, che tra l'altro è il mio primo map maker di Minecraft preferito, e stiamo parlando di roba di tanti anni fa, che ha deciso di far tornare DIVIRSITY! Sono super emozionato, e voi? Ehi, tantissimo! Andiamo subito a vedere che cosa ci aspetta! Guardate la lobby, è rimasta la stessa! Oh, quanti ricordi! Oh, che cose belle! No, non ci credo! Questa è la lana bianca del tutorial! E qui c'è un cestico scritto, per cominciare salta nel buco? Che buco? Che buco? No! 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 Cos'è? Che cavolo! Vieni giù! Mi sembra la cattiveria gigante questa! Oh, che cavoletti! Cominciamo bene! Che è successo la lobby? Questa è una versione un po' più rovinata! Che cavolo! C'è scritto Trollversity! Come Trollversity? Trollversity! Cosa? Cosa? Come? Non è diversity 3 questa? Ma ce l'ha scritto? Vabbè, comunque noi proseguiamo! È un po' mangiucchiata questa zona, mi sembra! È un po' più rovinata di quello che credevo! C'è qualcosa qui dentro! Assolutamente nulla! È un hopper sotto! È che comunque è vuoto! E viva! Beh, qualcuno deve aver rovinato un po' questa mappa! E vedo che ci volevano più cartelli per evitare che la gente prendesse i buchi sbagliati! Ma comunque forse i pressure plate sono ancora attivi! Quindi proviamo subito a lanciarci nel dropper! E funziona! Oh, che bello! Un sacco di montoni morti! No, no! Non sono un montone! Però questo è per vendicarmi di quello che hai fatto alla pecora in Super Mario Odyssey l'altro giorno! Ma sta bene, sta bene! Oh no! Perché l'acqua è qui sotto? Mi piace passare! Drop! Siamo già in fondo! Che succede? Comagna, te stai bene? Perché Q-Magnet urla? Mi sto preoccupando! Che cosa vuol dire questo? Sento Q-Magnet... Oh! Ah! Abbiamo ucciso Q-Magnet! No, smettila di uccidere Q-Magnet! Quante volte dobbiamo uccidere Q-Magnet? E vabbè, magari bisogna farlo cadere nell'acqua! Ah, dobbiamo farlo cadere nell'acqua? Forse! Cioè, vai avanti cento volte finché non lo facciamo cadere nell'acqua! Stiamo trollando il creatore di Diversity! Ce l'ha fatta? Ce l'ha fatta! Bravo! Ma vuoi si dimmi che forse avevi azzeccato? Non ci credo forse chi vi aveva azzeccato! No! Non ci credo! Non è possibile! E' vero! Che figata! Ora dobbiamo buttarlo ancora più sotto! No! 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 Ci stanno ammazzando tutti! Stiamo uccidendo i creatori delle Diversity precedenti! Che cattivega! C'è un pulsante qui! Ah! Evviva! Abbiamo preso la lana! In questo modo è Trollversity! Stiamo sul serio trollando gli altri! Come sempre veniamo trollati noi e invece trolliamo i creatori stessi! No! Dove sto andando? Per una volta ci sta comunque dai! Ci sta! Dopo tutte le cose che ci hai fatto è giusto che ci prendiamo la nostra rivincita! Vediamo un po'! Parkour! Parkour! Come parkour? Eh per forza! Via il dente e via il dolore dai! Ok! Sono così felice! Che cose sono? Blocchi! Oh no paura! Dobbiamo trovare i minerali nei parchi premi quando hai fatto! D'accordo! Cerchiamo di girare per... Non ci credo! Il municipio! Ti ricorda qualcosa? Ma certo! Questa è Simburbia! Un'altra serie di gigaboff che abbiamo fatto sul canale! E noi avevamo un municipio completamente rosa perché l'avevo completamente devastato! No! Che figata! E quella deve essere una versione in miniatura del dungeon di Gigaboff! Ti ricordi? Non mi viene in mente il titolo! Infinity Dungeon! No! No! Non mi ricordo! Che ricordi! Che ricordi! Era una mappa dove uno iniziava da qui in mezzo e infatti c'è anche qualcosa forse... La bislazzoli! Beh, io questo l'ho trovato! Ho trovato la bislazzoli e l'abbiamo già messo in casa! Grazie! La cosa bella è che noi iniziavamo qui dentro e poi ogni volta il dungeon era casuale e quindi ogni partita era diversa e uno poteva ritrovarsi con avventure totalmente differenti da una volta all'altra! Io però direi di passare sopra perché si può fare, a meno che uno non caschi dentro, ma comunque non è contemplato che uno debba farsi il labirinto normale! Bene! Quanti l'hai trovati tu? Zero! Che nome è zero! Qui c'è il nuclear plant e mi sa che dobbiamo salire, ok? Riesco a salire in qualche modo? Io non ci sono riuscita! Hai usato questo? Sì! Anche il trapdoor? E... Ok, ci sono! Mamma mia! C'è scritto che bisogna fare un po' di parkour! No? Siamo a tre e fin tanto che ne vediamo tre va bene, ma quattro sono meglio! E poi nella cava dei minerali e naturalmente c'è almeno un minerale! Ok, direi che manca qualcos'altro però! Il diamante forse! Manca il diamante, manca forse ancora il nether! E ho trovato il nether! Vai, piglialo! L'ho preso io! Ma che tanti vera che sei! È bello! È una cascata di ricordi! Ah, abbiamo preso tutto! No, il nether quartz! Ah no, te lo vedevo, scusa! Bene, bene la mappa ti trolla! E abbiamo anche la pink wool! Stupendo! Ma perché non poteva essere fatta bene almeno la scaletta? Mi piaceva farla un po' tutta sgamba! Dobbiamo andare nell'arena! Sai perché? Perché noi siamo già nell'arena! Ti ricorda qualcosa l'arena? No! Guardate! Eccoci! Togli la tua testa! Guardate! Carini che siamo! Dopo anni e anni siamo ancora lì! E non ci siamo mai andati! Ormai ci siamo fossilizzati! Guarda! Questa è stata una epica battaglia! Dove dovevamo aprire una dopo l'altra tutte queste gabbie e arrivavano i cattivi ad ammazzarci! Ma sono abbastanza sicuro che qui in mezzo ci fosse della lava! Forse mi sbaglio ma mi sembra di ricordarmela! Vedere le nostre teste all'interno di Diversity 2, la mappa più scaricata della storia di Minecraft o probabilmente una delle più scaricate in generale e avere la mia faccettina immortalata per sempre mi rende davvero orgoglioso! E vi ringrazio tantissimo per aver permesso tutto questo e quindi grazie se ci seguite da anni e magari avete visto in diretta la serie di Diversity 2! Ci fa davvero tanto piacere che il vostro supporto non sia mai venuto meno! E ora direi che dobbiamo pigiare su questo tipo? Sìììì! È stata un'arena facile! Non esattamente come quella scorsa! Shh! Arena! Dovamo stare zitti nell'arena, se no distraiamo la gente dall'ammazzarsi a vicenda! Abbiamo già fatto in scioltezza tre sfide! Non era così facile in realtà! Beh, voglio lanciarmi nel puzzle! Puzzle! Ah! C'è un punto di domanda cattivo! Che c'è scritto lì? Hai girato il punto di domanda? Ah! Stai premendo i bottoni in ordine? Sì! Wow! Questo sì che è un puzzle! Ehm... Ehm... Ci dovrai dentro? Abbiamo sbagliato qualcosa! Cosa hai combinato? Ma no! Hai cliccato su Vetture on to hub come minimo! Dici che sono... Ah no! Non è vero! Ma no! Ma cosa? Non lo so! Ci ha trollato la mappa! Ma non ci posso credere! Cioè è tremendo quando hai a che fare così troppo! Non sai neanche cosa aspettarti! Mamma mia! Ancora è accaduta! Un po' meno di prima! Trollversity! Dai scegliamone ancora una! Ehm... Dai scegliamo il labirinto! Così trollversity è troppo facile! Beh vediamo come te la cavi con questo! Clicca sui cartelli per rispondere correttamente! Mi ricordi di Babe? Ehm... Cosa Babe? Il Babe con i poteri! Ah! Quale potere? Il potere del voodoo! Voodoo? Yoodoo! Do cosa? Babà non lo so! L'italiano non aveva neanche senza tutto questo! Cosa abbiamo appena detto? Non lo so! Esattamente! Cosa sei? Ma perché? Perché? Ok questa è la lana! E noi dobbiamo prendere la lana! Vado qua! Vai lì! Ho attraversato pericoli che non possono essere detti! Ho combattuto fin qui al castello dietro la città di trollversity! Mi riprenderò la lana che tu hai rubato! La mia volontà è forte quanto la tua! E il mio regno è altrettanto grande! Tu non hai poteri contro di me! Yeee! Che cosa abbiamo appena fatto? Non lo so! Se qualcuno sa chi è quel tipo ce lo dica per piacere! Dove era il labirinto in tutto questo esattamente? Era un labirinto mentale perché lui non stava capendo niente! Comunque questa è la prima metà di trollversity! Una mappa assolutamente troll e senza senso! Che cosa abbiamo appena giocato mi domando? E qui continuo! Ah c'è la zona finale! Vai dare un'occhiadina! Ragazzi c'è ancora tempo! Come vedi si sbloccano solamente i pezzi che abbiamo già completato! Bene! Quindi direi che se volete che continuiamo la mappa e la completiamo in un prossimo video! Fatecelo sapere nei commenti! Noi vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi! E alla prossima! C'è un'eterno love! Ciao!